Ciao ragazzi, oggi abbiamo delle cose da dipingere perché oggi, ieri quando avevo paura di farlo allora ho deciso di farlo, quindi questo ci servirà per dipingere, questi serviranno tutti e tre i colori che ho, poi facciamo altre cose che sono dei giochi, poi c'è Star Lily che lo usiamo dopo delle altre cose poi c'è il libro, questo, aspetta un uomo e lo faccio dovete aprire il tappo, poi dovete mettere il dentifricio qua e fare la bolla il libro delle barzellette è molto divertente però, quindi ve lo spiego prima di stare lì c'è il pennello che l'ho già preso e adesso aspettiamo mamma il libro del 4 capirà